Promozione negata per 30 dipendenti del Parco dei Nebro, di 28 guardia parco e due ispettori. Questa è la posizione del sindacato Sadirs che ha lanciato un ultimatum. O sarà applicata la legge, riconosciuto pertanto l'avanzamento di carriera automatico, oppure ricorrerà in tribunale dove già due lavoratori hanno vinto con sentenze passate in giudicato. Per il parco si profila dunque anche il rischio di danno erariale. Si è discusso di questo in un incontro al parco dove Carmelo Raineri e Giuseppe Mario Stella, rappresentanti del Sadirs, si sono confrontati con l'attuale commissario Gianluca Ferlito. Quest'ultimo si è impegnato a convocare entro tempi brevi il Consiglio per mettere fine a questa storia. La vicenda, come ha spiegato il sindacato, riguarda un gruppo di dipendenti che in quanto corpo di polizia ha diritto agli avanzamenti di carriera per anzianità. Il personale del corpo di vigilanza per legge, equiparato al corpo forestale, ha diritto allo stesso trattamento giuridico ed economico. Dunque questi guardi a parco, unici vincitori di concorso in servizio al parco De Nebrodi a parere del Sadirs, hanno diritto all'avanzamento di carriera come prevede la legge. Raineri ha evidenziato inoltre come questa vicenda sia inverosimile e il parco rischia di essere continuamente citato in giudizio. La prossima riunione del Consiglio del parco dovrebbe svolgersi in questo mese. Il Sadirs ha annunciato di aver messo in atto l'ultimo tentativo di fare applicare la legge a favore del personale.